Sorge in piena zona industriale a Casier, in una collaterale di via delle industrie, il nuovo punto drive-in della marca, destinato prevalentemente ai residenti della zona sud di Treviso. L'area, in funzione da lunedì al sabato, dalle 7 alle 15, è segnalata e facilmente raggiungibile. Si presta bene e io ringrazio già da adesso, come ho già fatto, tutte le aziende che ci sono qui, perché naturalmente potrebbe capitare un po' nella viabilità che ci sia dei rallentamenti, ma il percorso che abbiamo fatto spero e penso che non dia disturbo a nessuno. L'operazione è stata portata avanti in tempi record, dopo che è tramontata l'ipotesi iniziale di un drive-in nella vicina con SCIO, fondamentale la collaborazione istituzionale. In questo momento bisogna che tutti ci adoperiamo velocemente a far sì che questa cosa sia più veloce possibile per risolvere il problema, speriamo. E la speranza del sindaco è soprattutto quella degli operatori in prima linea che bardati e pazienti raccontano com'è cambiata anche la loro vita. Diciamo che non vedi l'ora che finisca la giornata perché il mal di testa arriva dopo poco, hai poco ossigeno, sudi, ti senti che non riesci a respirare bene. Diciamo che un comportamento responsabile aiuta anche voi, possiamo dirlo? Tutti devono avere un comportamento responsabile, so che è difficile ma bisogna tenere sempre a mente che la mascherina e la distanza possono fare la differenza.